Salva di Crappon, Pifan e benvenuti in questo nuovo video di intanto riabilitazione non ho potuto fare video in questo periodo però la mia ragazza mi ha mandato dalla Tailandia alcuni video adesso condividerò con voi un primo video prende quando lei cammina a Bangkok vede una pianta per strada e poi Grazie video di su Pamburi prende una cucciolata di una cucciolata Sitigano ций no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.